Ho letto a proposito di riconoscimenti una serie di premi lunghissima, cioè bisognerebbe stare qua un quarto d'ora a leggerli tutti uno per uno. Quello più interessante, quello più lusinghiero? Anzi, gli ultimi due. Allora, l'ultimo in ordine di tempo è fine anno al Coliseum International Film Festival di Roma, dove alla cerimonia di premiazione erano presenti i volti noti, personaggi famosi, Nancy Brilli, Andrea Roncato, Maurizio Mattioli. È stato trovarsi tra le star. E tra le star ha brillato anche quella di Lucy. Siamo stati premiati come miglior documentario italiano. Caspita! È stato riconosciuto, Lucy è un destino da pioniera, il miglior documentario italiano. Poi, secondo il riconoscimento, è stata premiata anche la miglior musica del video musicale, il progetto di cui ti ho parlato prima. Quindi la canzone Lucy. Quindi avete preso proprio il 100% della soddisfazione, da una parte e dall'altra.